carissimi amici del canale youtube dentro la notizia i nostri governanti continuano a prenderci in giro spacciandoci come grandi concessioni diritti che i cittadini hanno fin dalla nascita prendiamo per esempio l'ultima dal 28 giugno sarà permesso ci dicono non portare la mascherina all'aperto se però sia in luoghi non affollati ma si deve comunque portarla sempre con sé in pratica come adesso non cambia niente la maschera all'aperto se sei sufficientemente distanziato non è obbligatoria e d'altra parte chi potrebbe tapparci la bocca sotto il torrido sole d'estate neanche i social potrebbero tanto e nemmeno i nemici dei popoli sempre pronti a insinuare sospetti su chi lavora veramente nell'interesse delle persone anche qui sul nostro canale cerco di lasciarmi l'amarezza alle spalle perché sì mi distrae mi sottrae energie che generalmente dedico all'interesse comune perché se alcuni non l'hanno capito qui c'è in corso una battaglia tra i popoli e le diaboliche elite che dominano il mondo chi attacca chi lavora a favore del popolo o non ha capito niente o è un servo dei potenti in entrambi i casi lavora contro l'interesse di tutti noi in questa guerra che nostro malgrado dobbiamo combattere abbiamo un vantaggio l'elite utilizzano le solite tattiche in quasi tutti i paesi ma la cosa positiva è che a livello mondiale più la dittatura si fa accesa e più il risveglio delle persone si fa sentire nelle filippine la tirannia si fa molto aspra e il risveglio avviene copiosamente al punto che irritato dal basso tasso di vaccinazione del paese il presidente delle filippine rodrigo duterte ha affermato che potrebbe incarcerare le persone che si rifiutano di farsi vaccinare contro il coronavirus duterte ha sfogato la sua frustrazione per l'esitazione del vaccino durante una riunione di gabinetto lunedì sera tardi con queste parole se non vuoi farti vaccinare lascia le filippine va in india se vuoi o da qualche parte in america ma finché sei qui e sei un essere umano e puoi trasmettere il virus dovresti essere vaccinato il presidente ha chiesto al governo di identificare coloro che si rifiutano di vaccinarsi sì in tutte le dittature la necessità di censire i dissidenti per poi andarli a prendere o a stanare è una vecchia e consolidata strategia duterte ha aggiunto ordinerò il loro arresto a dire il vero scegli fatti vaccinare o vieni incarcerato se non vuoi farti vaccinare ti farò arrestare e poi ti inietterò un vaccino nelle natiche sono disperati povero piccolo dittatorino urla tanto ma il popolo non lo ascolta prosegue come se niente fosse la propria esistenza pensate le autorità di manila hanno invitato 28 mila persone ai siti di vaccinazione tramite sms ma solo 4402 si sono presentati così il sindaco isco moreno ha affermato che la città tornerà al vecchio sistema dove chiunque potrà presentarsi per la vaccinazione sono disperati pensate che per incoraggiare l'inoculazione del vaccino le filippine esentano gli anziani completamente vaccinati da alcune restrizioni sul coronavirus ma le filippine sono alle prese con un momento così drammatico dai numeri non si direbbe anzi se li confrontiamo con il nostro paese sono numeri ridicoli stiamo parlando di una situazione di circa 111 milioni di abitanti complessivamente più di 1,36 milioni sono stati infettati dal coronavirus e 23.749 sono morti contro i nostri ben 127 mila in un paese che è poco più della metà come numero di abitanti a partire da sabato 2 milioni 210 mila e 134 filippini sono stati completamente vaccinati sì avete capito bene 2 milioni di vaccinati su 110 milioni di abitanti circa il 2 per cento ha dato ascolto alla propaganda e questa sconfitta per un dittatore è inaccettabile ma come la propaganda funziona solo in italia no in realtà anche qui da noi piccoli tiranni oltre al bombardamento mass mediatico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 devono ricorrere all'uso di minacce ricatti tipo se non ti vaccini ti privo dello stipendio e cose simili che testimoniano che una parte consistente del popolo si sta svegliando e paradossalmente più la tirannia si fa dura più le persone prendono coscienza è un cane che si morde la coda è la strategia della disperazione e il per loro che il popolo non deve superare la massa critica se non hanno perso dovranno cambiare strategia e così vedremo gli asini volare prima di concludere volevo ringraziare gli amici della bife international una delle innumerevoli piccole e medie aziende del made in italy di successo che consiglia prendac 2 il primo integratore che associa in un'unica soluzione quattro vitamine fondamentali vitamina d3 a k2 e vitamina c queste vitamine insieme contribuiscono al corretto funzionamento del sistema immunitario e all'attivazione del ciclo del calcio che è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare la bife quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video potete iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella e condividere i video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin grazie 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 grazie